All'arma in Lomellina per la presenza di una persona che ha preso l'abitudine di sdraiarsi sulla carreggiata delle strade provinciali. Negli ultimi giorni diversi automobilisti hanno segnalato quest'uomo coricato sul ciglio della strada, quando non addirittura nei punti di passaggio. Gli avvistamenti si sono concentrati nelle zone tra Medes, Artirana, Bremi e Valle Lomellina. A quanto è stato possibile ricostruire si tratterebbe di uno sbandanto, spesso ubriaco, che sfrutterebbe questa strategia per attirare l'attenzione e chiedere l'elemosina agli automobilisti che si fermano per soccorrerlo, generando però delle gravi situazioni di pericolo. Spesso sono state chiamate le forze dell'ordine che non possono fare altro che allontanarlo. L'allarme è stato rilanciato dal sindaco di Breme, Franco Berzero, che invita tutte le persone di passaggio in quelle zone a prestare la massima attenzione. La mia segnalazione è dovuta al fatto che chi ha da passare in queste zone, se vede questa persona entriata a terra, sa che deve essere molto cauta in quanto fa uso smodato di alcol e quindi adesso ha questa situazione in cui attira l'attenzione, poi se uno si ferma chiede qualche aiuto finanziario per poter tirare avanti. Bisogna fare attenzione quindi di non non creare, diciamo, possibilmente un incidente, anche se il sussido della strada potrebbe non essere visto, quindi facciamo molta attenzione.